Il marchio comunitario è un diritto esclusivo unitario che serve per contraddistinguere i prodotti e servizi di un'impresa da quello delle altre imprese. La caratteristica principale del marchio comunitario è che è un diritto unitario, vale a dire che è valido nei 28 Paesi della Comunità Europea e non potrà essere limitata la portata geografica del marchio comunitario. Il marchio comunitario può essere depositato a nome di persone fisiche, persone giuridiche o enti associazioni aventi personalità giuridica. La procedura di deposito di un marchio comunitario presenta diverse fasi. Abbiamo una fase di deposito, una fase di esame durante la quale il marchio viene considerato in relazione ai requisiti formali e in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione del marchio. Successivamente ci sarà una fase di ricerca. Oggi l'Ufficio di Alicante conduce una ricerca solo in relazione ai marchi comunitari identici o simili al marchio che è stato depositato. Qualora il titolare fosse interessato a condurre anche delle ricerche a livello nazionale, dovrà pagare delle tasse al momento del deposito del marchio comunitario. Successivamente c'è una fase di pubblicazione del marchio. Dalla cui data, terzi a venti diritti anteriori possono depositare entro tre mesi opposizione al marchio che è stato depositato. Se nessuna opposizione è stata depositata, l'ite del marchio procederà e si giungerà a registrazione. La tempistica standard per poter ottenere la registrazione di un marchio comunitario senza problematiche durante le varie fasi di procedura è di 27-28 settimane. Per quanto riguarda i costi, parliamo di 900 euro fino a tre classi merceologiche rivendicate. L'estensione geografica di un marchio comunitario non può essere estesa. Il marchio comunitario è un tutt'uno ed è valido nei 28 paesi della comunità europea. Il marchio comunitario può essere la base per il deposito di un marchio internazionale, designante uno o più paesi a patimenti al sistema di Madrid. L'ufficio che gestisce il marchio comunitario è l'UAMI di Alicante in Spagna. È possibile consultare il sito dell'UAMI online su cui troverete tutte le informazioni in merito alle tempistiche, alle modalità di deposito e alle domande più frequenti che vengono poste in relazione al marchio comunitario.